Io, non siete compiti per io, ma siete un altro, ma non siete compiti per io, ma non siete un altro, perché prima di voi c'era un altro, poi siete voi che siete un altro, dopo di voi c'è un altro che è un altro ancora, guarda, ma non è già diverso, non tu, allora, tu, ditemi, allora, tu, qual è il motivo perché siete venuti qua, qual è il motivo che vi ha condotto qui, allora, qual è il motivo, fatemi sentire il motivo, ma non lo so, ma no la cazzone, no la cazzone, il motivo è la ragione, ma non è che quelle cagliate il motivo, che ne facciamo, queste la vediamo, no signora, un altro motivo è la ragione per cui voi siete.